nonostante i reiterati appelli di amministratori primo cittadino sanitari o semplici cittadini nonché artisti locali sembra che alcuni non abbiano compreso a pieno la portata di questa emergenza e le condizioni nelle quali stanno operando medici e sanitari è innegabile che esiste un abisso tra ciò che si consuma dentro le strutture e ciò che avviene fuori dalle mura degli ospedali sì le città sono in queste ore deserte si fa la fila ai supermercati o agli uffici posta e banche ma ancora tanti sono coloro che trasgrediscono lo dicono i numeri dei controlli riportati dalla prefettura di pesaro nonostante in questi giorni di emergenza la fruizione di molti luoghi pubblici è stato temporaneamente inibiti o limitati il loro accesso cimiteri aree sportive alcuni parchi sono in diversi che stanno continuando a malinterpretare le indicazioni e non contribuire come potrebbero evitando uscite evitabili e non necessarie per questo allora mali estreme estremi rimedi e l'amministrazione comunale ha così intensificato i controlli quello che si chiede alla cittadinanza e sulla quale noi stiamo monitorando da ieri con maggiore diciamo così attenzione e con più presidi è quello di collaborare è quello di collaborare cercando di evitare al minimo le uscite perché sono occasioni di contagio che mettono a rischio la propria salute e la salute dei propri cari più fragili facendo carico ancora di più sul nostro sistema sanitario restate a casa uscite solo se strettamente necessario per lavoro per acquisti di genere alimentari o medicinali se dovete uscire di casa mantenete le distanze con altre persone il coronavirus possiamo fermarlo solo insieme quindi parchi aree periferiche o di compagna spiagge compreso anche l'arenile monitora di sette giorni su sette con un operatore fisso in sala monitor al comando della polizia locale che tiene sotto controllo contemporaneamente molte aree cittadine attraverso l'utilizzo di oltre 80 telecamere e questo in costante dialogo con le tre pattuglie sul territorio noi mettiamo in campo ovviamente il servizio abbiamo tre pattuglie che presidiano il territorio e tre intendo nel turno del mattino e nel turno del pomeriggio i controlli che facciamo sono prioritariamente quelli dei movimenti degli spostamenti perché i decreti sono molto chiari vietano di spostarsi se non per necessità e i controlli devono essere fatti affinché questo venga garantito noi perché poi vengono messi in campo questi controlli perché abbiamo anche continue richieste da parte delle autorità sanitarie che si raccomandano di far comprendere alle persone il più possibile di rimanere a casa perché siamo veramente in un'emergenza sanitaria per segnalare inoltre alla polizia locale situazioni di assembramento informazioni c'è un numero verde 800 094 141 oppure anche comporre lo 0721 88 77 21 che è il numero del centralino del comando della polizia municipale di fano